Oggi parliamo dell'acquisizione dell'immobile e la successiva pubblicità immobiliare. Una volta acquisito l'immobile noi di Gruppo Vela andiamo a controllare tutta la parte documentale che raccogliamo dal venditore prima di fare la pubblicità sui vari portali e sulle nostre vetrine. Le pubblicità vengono preparate utilizzando foto professionali e descrizioni dettagliate delle caratteristiche dell'immobile. Se volete maggiori informazioni sugli argomenti che stiamo trattando contattateci qui.